no web ok allora ok non capisco il ma qui dietro che ci sono tipo 2 milioni 800 e passa ragnatele c'è qualcosa o c'è un simile che ci sia qualcosa non è possibile che non ci sia qualcosa io ogni volta che non vedo non trovo mai niente vabbè vale la pena provare io odio le ragnatele guanda anche io ti seguo interessante ah beh però attenzione c'è uno sbocco cos'è che hai? devi sboccare no c'è uno sbocco non devo sboccare anche se tranquilli ragazzini calmini è qua meno male trova la tua ex spada con knockback qua uuuuuh non lo sarei mai più creeper non lo sarei mai più ben serio che ti versi guanda scusa voglio vedere a te ti giri e ti avrai un creeper che ti guarda no eh più o meno dai eh mi evite spalmare tra c'è tutto 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 in giro ma aspetta perché ci sono un po' di schi di cessi anche qua si è anche qua ok allora arrivo ti metto qualche torcino in giro oh stai mettendo tu oh ho trovato un dungeon un dungeon semplice anche dai faccio la cacca addosso ok no io la faccio ma no dove dove sono caduto dove sono caduto ok devi sei esploso si vedi io sono caduto giù da qualche posto e non so dove mi vieni a ripescare no dai uomo lo scrivi dove è il tuo più visto mi fosse nel coraggio e' sopra te l'ho detto te l'ho detto che c'è il creeper bastardoli non credo che la mia armatura reggiano no 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 lì lì di dietro no tu lì indietro e lì dal buco e su un caduto giù io e come dovrei venire a ripescare da 1 a 10 ti butti giù così mi fai compagnia si si cioè vabbè per aspetta mi interessa questo posto qua anche se dai ma ci siamo già stati qua in alto e eh io ho già visto ma quando ci siamo stati scuso non lo so c'è uno zombie che ci sta guardando guardalo guardalo in alto devi in alto guarda 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 si ok che si che mi ha sparato la fonte mi son fatto male ok no io aspetto un attimo perchè ho tre cuori quindi si comunque ci siamo già stati qua per forza ci sono in giro delle nostre torce dai in fondo però non c'è niente dai in fondo oh vita caricati su su questo posto è il tuo quanto quanto becchime hai eh 24 pane più che altro ho trovato nei dungeon e quelle cose là ah ah uh uuuuuh uuuuh tempo mi muoio di brutto allora ok dove sei ehm sto mettendo torce in questo momento eh beh grazie mi chiede ma se mi sembra 25 che cavolo che so vuoi io ti ho però so no 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 ma sapevo io ok no ho visto il tuo nome che saltello attacco speciale no ti ho proprio sul tuo nome ecco il tuo nome bella lì ok ciao ciao eeeh ehm ehm ci scriviamo giù a muzzo nella spazia di cadere nella lava no vabbè che ha fatto ehm ciao amico ok ok meno male che ho not back sennò chi sa quante volte sarei esploso già uh qui non ci siamo andati eh ma fosse l'unico posto dove non ci siamo andati uh c'è nebbia là in fondo mi piace la nebbia vado a vedere cosa c'era la nebbia pieno di creeper dove son caduto dove son caduto ok mi son perso ehm si ehm no ci dovevamo prima ok easy uuuuuh 2 2 io sto scendendo devi mai fatto che ti ho potutamente perso eh ma non ancora tu aglio non guardarmi aspetta aspetta che arrivo subito eeeh ha tu ho trovato un dungeon io Dave ah ti ho visto stai fermati stai fermati di zombie ok intanto cerco il dungeon e così appena arrivare lo facciamo come hai fatto a dire ho trovato un dungeon e poi mi dici che non hai trovato un dungeon e poi mi dici che non hai trovato un dungeon ah boh fate se sento tipo mu 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 il corizzo tu zombie stai vendo da me non un budino all'arte con le macchie vabbè a parte le cavolate ah sei qua sotto benissimo qui in giro ci sono c'è un dungeon di zombie qui in giro no no c'erano i zombie là sopra tipo vabbè si ci rinuncio a notare controcorrente guarda non lo escluderei ma io la sopra ho visto degli zombie e secondo me erano quelli che producevano questo nefasto suono uh ok ho trovato ho trovato una grotta io Dave no c'era no ho trovato un cazzo ok no no ho già scavato niente qua c'è uno zombie dove mio zombie c'è più ok vado via quanto oro che c'è in questa caverna davvero tanto ok qua ci siamo già stati ok ok c'è c'è dato anche qua no è fermo scherzo è pieno di posti inesplorati veramente una caverna grande non devo ricredere sono stato bravo eh no e l'onesto l'abbia trovata assieme sta caverna lui ha trovato altri sbocchi come io trovo sono stato io tu fammi dentro però scusa sei stato tuo cadere dentro non è diverso tuffato ti sei proprio poco tuffato diciamo Sono piccolette quelle Ok Perché tu sei lì scusa? Come hai fatto ad andare lì tu? Ho camminato Ah di qua Ok ok No basta io adesso scavo giù Picchiata 2 e basta Vuoi andare in giù io Vuoi il diamante io Divertiti a scavare Ok ciao Dave Aiutami a scavare giù Tipo ci mettiamo a livello della bedrock Cominciamo come l'altra volta Che abbiamo entrato tanto di vante a scavare un po' A random che dici? Oh vai vai proviamo Voglio il diamante Dai Almeno possiamo andare in diendio Io voglio andare in diendio Ups sono dato un pugno al microfono Voglio andare in diendio C'è tu tranquillo scava sotto di te Con niente posto C'è trovi la lava muori e tutto Ok Non posso muoio Oh vuoi ci muoio Tu non posso muoio Sì Anche tu sei arrivato Sì Cominciamo a scavare totalmente a muzzo Eh beh Hai delle altre touch Sì Ti do Questo Ti do anche questo Questo E questo No 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 Tuo No Tuo Tuo Ti vieni conto che ho 15 pezzi di schifo di zombie Sì Stupidi zombie Sì Ok ho trovato diamanti Fai serio Voglio vederlo qui Eh ma Sono infallito Uh Sì Tranquillissimo Primo recurvo Quando non è Non è Non è Traff Non ho Alla fine Non hai fortuna alla fine Sono io che me lo immagino dico che sono dunque cosa? scavo anch'io di qua così sto lagando un pochettino però è vero? non tanto però giusto quel poco che basta per farmi laggare vabbè possibile anche che sia io eh nel senso oh non lo prendo io voglio ora prendilo tu no anzi non ci sia lo prendo io allora no lo voglio io eh troppo tardi eh lo già preso io lo già preso ho un rutto 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 no ok no si non sei molto educato verso i nostri iscritti però no infatti scusate ho mancato dirci perché continui normalmente ma intralci ma che vabbè ok ok siamo a legno zero no questo senso questo senso dai c'è un fulmine si tranquillo la pienti io non ancora non ho ancora trovato nulla io qui sotto io guarda qua guarda qua guarda guarda poi occhi del cercato io che è qui c'è terra, adesso tolgo della lava, sicuro guarda che ne metti, io metto le tasse tu me le togli, scuola, scuola tu le metti scuola sul blocco che sto per scavare e non è che sto lì a spostare il mouse tu devi immaginare che voglio metterli in quel preciso blocco lì quindi tu devi evitare di scavarci su uh zombie tanti le mie orecchie hanno regliato zombie io scavo dritto e secondo me li trovo si conoscendoti però lo stesso no mi sento le due voci che si allontanano sentili si fanno brrrr e tutti fanno brrrr dai diamanti su io diamanti devo potenziare io no il gravel no giochiamolo no è ok va bene tranquillo c'è tuoni ma come fossimo come fossimo sulla terra ferma si ti manca solo che si metta a piore anche qui dentro guarda si come capita ogni tanto che gocciola le piogge di acqua nelle case e comincia a gocciolare anche qui sotto me avrebbe senso mario storno io voglio diamante un'altra distanza 8. un po' un po' un po' un po' i fulmini ce l'ho seguito con te guanda perché te lo puoi fare più una secondo me ma cosa no che cavolo sto facendo oh quanto gravel sta qui cosa c'è qui sotto grave niente Basta ti scavo più Ma io non ho ancora trovato Ma non dico diamanti Non ho ancora trovato neanche Carbone Io sto tolto di tutto Ah, tutto carbone Io almeno io trovo Si carbone direi Almeno trovo qualcosa Secondo me i blocchi mi evitano Sto scavando lì Si spostano Si spostano dalla linea d'aria Si capisce Sono cattivi i blocchi Allora io Basta tuoni Guarda fai smettere Zeus Offrgli un sacrificio Vabbè l'unica cosa che trovo è L'arresto che proprio non mi serve Vabbè le prendo lo stesso Toh Ferro Non abbiamo già abbastanza caso E' buono Ho capito E' la cosa più utile dai Si E vai Quanta redstone c'è qua Perché i diamanti non sono Ok ferro Perché i diamanti non sono Facili come La redstone da trovare Perché non avrebbe più senso questo gioco Cos'è vuol dire Diventa il gioco dei righi Scusa Si In fondo se ci pensi diamante Non si usa nulla Ok ho trovato diamante Io non torno neanche più a vedere Va bene Non è quello che ho trovato Quanto trovo Io quando ne trovo ne trovo un blocco Due blocchi no Se lo trovo Ho dieci diamanti Dei l'ho trovato Dai Mi dicono che ho fortuna Mi dicono Io ci rinuncio Allora Avanti dai dai ne trovo degli altri adesso Me lo sento Con tutte le tecniche No no gravel 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 Ok Con tutte le tecniche di scavatura Che sto usando Non ho ancora trovato nulla Nulla Io sto andando dritto e basta Io più o meno Eh sto usando quel metodo Che hai detto nel video Quello noioso Che ti puoi andare avanti Scavando i due blocchi dritto Così Sì infatti è noioso purtroppo Anch'io lo sto usando Mi dispiace con tutti Ma se vogliamo andare in In the end I diamanti ci servono E come questo qua è uno dei Modi migliori di trovarli Anche se odio In questo caso forse Perché come potete vedere Non sto Diciamo Non sta avendo molto successo Almeno dalla mia parte Eh guarda Guarda un caso Ma cosa Non contatelo Non degnatelo No Se lo vedete in versata Indicate Ok lava Ok lava No ok Questa non è fortuna Chiuditi 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 No è fortuna Perché se fosse successo a me Essere morto è diverso Cioè Ah ok Va bene Allora Non ho l'inventario pieno Quando si chiedono Ah sono anche un bel po' pieno Infatti mi sta Ah infatti sto lasciando La scelta di schifo Di prima Vabbè pace Beh io sembra Non è una lumacca Cavola Tutti Questi pezzi qua Di cob Cioè io sto facendo Tutto calcolato Oh ho tratto diamante Ok allora ragazzi Io esco dal server Perché tanto In questo punto C'è quando Si sta divertendo A giocare da solo E niente Il mio scopo qua È terminato Tre diamanti Io ho porto Beh Grazie posso anche andare via C'è il let's play da oggi Quest'episodio di continuo Andare da solo Anche perché Riesce per stare benissimo Anche lui quindi A posto No lavo lavo no no Easy Oh quanto ho finito sto buco Ma dove sei andato Io ti ho perso di voto Tu dove sei andato Ma seguila Ti ho lasciato Le briciolini di pane Come Hansel e Gretel Seguile Sono lì No aspetta Quello era Pollicino Prima cosa Non Hansel e Gretel Hai ragione Hai ragione Era Pollicino Lo so grazie Ah ciao Eccoti Sì vabbè Era Pollicino Cioè allora Scusa un attimo Tu hai scavato Ma saranno 30 metri Hai trovato tipo 13 di diamante Io ho scavato Per 60 chilometri In linea retta Non ho trovato nulla Nulla Ah no boh Qualcosa hai scavato Dai Ok Sì no Mi sono impegnato Non scavato Ho messo la cobblestone Non trovo Mi amando No no Ma io voglio Allora io se scavo vicino a te Trovi te le robe Non le trovo io Se scavo lontano da te Trovi comunque te le robe Non le trovo io Cioè a questo punto Mi sono portato alla fine Tanto mai Comunque chi si Se trovo L'importante è che le troviamo Così andiamo Sì no infatti Però Hai intersecato Ha intersecato Un'altra già esistente Eh vabbè dai Io vado dove Mi comando Stiamo terciando Chissà che disegno Stiamo terciando Sottoterra Con questo No lava 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 Fiamati Dave Fiamati Calma Ok Di qua Niente lo ha Di qua Ragazzi L'episodio finisce qua E alla prossima puntata E ciao Ciao a tutti Buona Grazie Ciao a tutti Ciao a tutti